Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre per il momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla FIPILI per i lavori di sicurezza sul viadotto del Turbone, possibili disagi in entrambe le direzioni tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina a Firenze fino al 10 aprile, lavori di pavimentazione stradale con divieti di sosta e transito in via Pilati. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!